da giugna a vaticati tricolore presente a gabizio mare siamo pronti con la partenza 5 4 3 2 1 via 9 giri in programma categoria donne e giordietti e c'è anche la pecore funghi affaticati con le maglie dell'area artù è una belle fatenza e da photo finish attendiamo il photo finish and yeah and yeah E attenzione perché lo sprint finale Applaudiamo le tette ragazze Con esordini Tram finale L'istilo è quello di Alessia Padueli Realti Faturi Team E le altre Con esordini Salve ragazzi Prendi la seconda Ma prendersi I due compiti per la terza Giulio Cerco E la quarta 1.1 6.54 La marchigiana Giorgia Simoni Hopi Bike Porto il santo e il figlio Bravo Quindi Alessia Padueli Giorgienti Eccola che arriva L'applauso per Alessia Padueli Lo facciamo con il class giusto La luce Il nostro vizio di riscardo Saliamo Soprì un radio nel fondo Andiamo a medagliare Questa ragazza E l'ecolo Caico Che va a premiare Alessia Padueli A riuscire Per quanto riguarda La prima classificata E arriva anche Il pazzo delle due ragazze Facciamo il pazzo simbolico Grazie a tutti 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 Grazie a tutti